Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, parleremo del 37esimo episodio di Astronomy Universe, che cosa andremo a fare qui? Parleremo del pianeta Nettuno, giusto? Nella puntata precedente abbiamo parlato delle lune di Urano, giusto? Che in tutto il totale farebbero 27, lì ne ho parlato 5 e lì altri 22 e il risultato in tutto fanno 27, ma qui parliamo di un altro pianeta, il pianeta Nettuno. Sono riuscito a fare qualche foto, anche se è un po' scuro il pianeta, è stata una sfida per me. Prima riprenderlo a occhio nudo, cioè col telescopio, senza filmarlo, fotografarlo, poi il difficile è stato fotografarlo col telefono, ma non questo qua, il Samsung Galaxy J4 Plus, con questo penso che sarà meglio le riprese quando riprenderò qualcosa, perché già diciamo che riesco a fotografare le stelle con questo nuovo tipo di telefono. Comunque, io vi auguro una buona visione. ecco qui, raga, nelle puntate precedenti abbiamo parlato del pianeta Nettuno, giusto? E che io ve l'avevo mostrato, giusto, dal mio terrazzo. Ve l'avevo anche indicato, là è il punto, perché verso ovest c'era Urano, invece verso est Nettuno. Sembra i pianeti giganti di ghiaccio. Questi non li puoi vedere nemmeno a occhio nudo, nemmeno se c'è l'inguinamento luminoso zero. Sono troppo distanti. Ci vuole un telescopio per vedere, ma come dei puntini. infatti, con Nettuno è stato difficile. Guardate le mie foto, che io ve le avevo mostrate del 15 agosto 2021. Si trova al centro di queste due stelle, visto che io vi ho mostrato il cerchietto. È scurissimo, non si riesce a vedere. Ingrandiamo, visto dov'è quel punto. Nettuno. Quello lì è Nettuno. Difficile da vedersi. Poi vi avevo mostrato anche Nettuno nei film. Ad esempio qui dell'Era Glaciale 5 è rotto di collisione. Vero? Quel punto blu. Non quello là sopra che è Urano. Questo qua, in basso. Nettuno. Poi abbiamo parlato anche che ci sono forme di vita aliene su Nettuno. Purtroppo no, però c'è la pioggia che piovono diamanti. Non è solo Urano, anche Nettuno. Questo almeno sì. Forse le lune. e andiamo a parlare oggi delle lune. Va bene? Comunque. Adesso parlerò di Nettuno e le sue lune. Giusto? Questo è oggi l'argomento che tratteremo. Andiamo a cercare la prima luna, la più grande di tutte. Tritone. Ecco qui, raga. Parliamo della luna di Tritone. Tritone è il più grande satellite naturale di Nettuno ed è uno dei più massicci dell'intero sistema solare. Precisamente il settimo dopo Titano. Perché Titano è la luna più grande dell'intero sistema solare. La luna ha quattro satelliti medici di Giove scoperto nel 1846 dell'astronomo inglese William Laisal. 17 giorni dopo la scoperta del pianeta prende il nome dal figlio del dio del mare, Poseidote, la mitologia greca. Tritone è l'unica grande luna che orbita attorno al proprio pianeta con moto retrogrado. Ha una distanza media da Nettuno di circa 355 mila chilometri e in periodo in poco inferiore ai sei giorni. Per la sua orbita retrograda e per la sua composizione simile a quella di Plutone, si pensa che Tritone non si sia formato nei pressi di Nettuno, ma che sia piuttosto un oggetto proveniente dalla fascia dei Kuiper. Quindi è un indruso che è stato catturato. La sua superficie è composta in gran parte da azoto ghiacciato, la crosta e il mantello d'acqua congelata e il nucleo, che costituisce i due terzi della massa totale da rocce e metalli. La superficie è relativamente giovane, in quanto è caratterizzato da un'attività geologica particolarmente intensa, con numerosi geyser visibili che eruttano azote tenute atmosfiche a una pressione di 1 su 70 mila di quella terrestre. Tritone è stato sorvolato da un'unica sonda spaziale, la Voyager 2. Nel 1989 i dati e le immagini inviate a Terra hanno permesso di stimare con precisione i parametri fisici e orbitare di individuarne le principali formazioni geologiche e di studiarne le tenue atmosfere. Poi, la storia dell'osservazione Tritone venne scoperta da William Laser il 10 ottobre 1846, 17 giorni dopo la sua scoperta stesso Nettuno, seguendo un gerimento di John Herschel. L'Es riteneva anche di aver individuato un anello attorno a Nettuno, anche se la presenza di anelli è stata successivamente confermata essi sono così deboli ed escuri, che si ritiene non fossero osservabili con i mezzi che aveva a disposizione. Il primo tentativo di misurare il diametro di Tritone fu fatto da Gerard Kuyper nel 1954, che ottenne un valore di 3.000 su 800 km. Tentati di misurazione successivi arrivarono a stimare il diametro da 2.500 a 6.000 km, da leggermente più picco della nostra Luna, quasi la metà del diametro della Terra. Esplorazione Spaziale Un massaico di immagini Tritone ottenuto dalla sonda spaziale Voyager 2. La Voyager 2 passò a 40.000 km da Tritone il 25 agosto 1989, mappando la superficie con una risoluzione di 600 metri. Dati raccolti dalla Voyager 2 permise una stima più acuta dal diametro di Tritone pari ai 2.706 km. Nel 1990 furono effettuate diverse osservazioni della Terra di Tritone, sfruttando l'occultazione di alcune stelle vicine che indicavano la presenza di un'atmosfera. È una superficie sodica. Le osservazioni suggeriscono che l'atmosfera era più densa di quanto indicato dalla Voyager 2. Gli scienziati della NASA hanno identificato Tritone come un obiettivo primario per future missioni nel Sistema Solare, proponendo nuove missioni come quella suggerita nel 2010, la Neptune Orbiter, che alcune opzioni proposte sarebbe stata dotata di un veicolo d'atterraggio dedicato allo studio di Tritone. Così come fu per la U-Gens che atterrò su Titano ad oggi, tuttavia gli sforzi diretti dall'esplorazione di Nettuno e Tritone, sono stati posticipati il finanziamento della NASA sull'emissione del Sistema Solare esterno. È attualmente focalizzato sui sistemi di Giove e Saturno. Poi, i parametri orbitali. Tritone è particolare fra tutti i principali satelliti del Sistema Solare esterno a causa della sua orbita retrograda. Attorno al pianeta altri satelliti minori di Giove e Saturno presentano orbite retrograde ma sono tutte catarizzate da un diametro inferiore al 10% di quello di Tritone. L'orbita retrograda rende evidente che Tritone non può essere formato nella stessa regia della nebulosa solare di Nettuno, ma è con tutta probabilità un oggetto della fascia di Kuiper catturato in un secondo momento. Questo potrebbe spiegare anche l'orbita estremamente centrica di Nereide, così come la provenienza del calor necessario a fondere l'intero di Tritone e differenziarlo. Il calore generato dalla forza di marea risultata dalla circolazione dell'orbita centrica avrebbe potuto mantenere Tritone liquido per circa un miliardo di anni. L'orbita di Tritone è caratterizzata da due inclinazioni, quella di 30 gradi propria di Nettuno e quella di 157 gradi propria di Tritone stesso. Rispetto all'orbita suo pianeta un'inglinazione superiore a 90 gradi indica un moto retrogrado. L'inglinazione compresa oscilla tra i 127 gradi e i 173 gradi e attualmente ha un valore attorno ai 130 gradi. Tritone precede Nettuno nella sua orbita con un periodo di 678 anni terrestri corrispondenti a 4,1 anno nettoniano. Tritone è in rotazione singrona. Con Nettuno egli mostra pertanto sempre la stessa faccia. Eh, come la Luna in questo caso. L'Equatore è quasi esattamente allineato al piano orbitale. Attualmente l'asse di rotazione di Tritone è inglinato di circa 40 gradi rispetto al piano orbitale di Nettuno. Il che comporta che durante il suo periodo di rivoluzione ciascuno dei poli punterà a un certo punto verso il sol, come fanno anche i poli di Urano. Di conseguenza anche i poli di Tritone sanno alternivamente volti il sole, variando così la loro illuminazione, e innescando dalle variazioni di tipo stagionale, come è stato recentemente osservato, a causa del moto retrogrado. Le forze in marea stanno facendo lentamente cadere l'orbita di Tritone, già assai vicino a Nettuno, e si prevede che entro i prossimi 3,6 miliardi di anni, entra nei limiti di Roche, del pianeta, quindi Tritone colliderà con l'atmosfera di Nettuno, o andrà a formare un nuovo anello planetario attorno al pianeta. Poi, Nettuno visto da Tritone, a causa della sua rotazione singola del satellite rimane fisso nel cielo di Tritone, raggiungendo una dimensione apparente pari ai 6, 10 volte la luna, piena vista dalla Terra. Dalla stessa parte è possibile inoltre notare le lune più interne attraverso il disco del pianeta. Caratteristiche fisiche. Tritone, la settima luna, è il sedicesimo oggetto per dimensione del sistema solare. Leggermente più grande dei pianeti nani, Plutone ed Eris, la sua massa compone il 99% di tutta la massa nota in orbita attorno a Nettuno. Anelli del pianeta e altre 13 lune conosciute, comprese a raggio densità e temperature e composizia chimica similar a quella di Plutone, i dati sulla sua densità media di Tritone, stimata in base agli effetti gravitazionali riscontrati sulla traiettoria della sonda Voyager 2, implicando che probabilmente è composto da circa il 30 o il 45% di ghiaccio d'acqua. Mentre il resto materiale è roccioso, come Plutone il 55% della superficie di Tritone è composto da azoto ghiacciato, con ghiaccio d'acqua in misura compresa tra il 15 e il 35%, più un decimo il 20% di ghiaccio secco. A nitride carbonica ghiacciata sono presenti tracce di metano, lo 0,1%, e monossido di carbonio 0,5%. Tritone ha un albedo notevolmente alta, visto che riflette il 60 e il 95% della luce solare che lo raggiunge a confronto alla Luna, ha un albedo di solo l'11%. Il colore rossastro di Tritone si pensa derivi dal ghiaccio di metano che viene convertito in titolina, sotto il bombardamento delle radiazioni ultraviolette. La struttura interna di Tritone indica che è stata soggetta a rimodellamenti nel corso del tempo, e di conseguenza si pensa che la sua struttura interna sia differenziata come un bandello sotto la crosta, un nucleo di roccio o forse metalli, al suo interno che potrebbe contenere almeno i due terzi della massa combustiva del satellite. Esiste sufficiente rocce all'interno di Tritone per un decadimento radioattivo nel mandello dove il calore è generato potrebbe essere sufficiente in mantenere un oceano di acqua liquida, come quello ipotizzato esiste sotto la superficie di Europa. Se è presente l'acqua liquida, dà la possibilità della presenza di vita su Tritone. Tutta la conoscenza della sua superficie di Tritone è stata acquistata con i flyby della Voyager 2 nel 1989. Il 40% della sua superficie rispetto dalla sonda rilevato cresce di pressione solchica, mitalti piani, pianure ghiacciate e pochi crateri di impatto. La superficie di Tritone è relativamente piatta. La sua topografia varia al massimo di un chilometro recente. Analisi sulla sua densità e distribuzione dei crateri suggeriscono che i termini geologi la superficie di Tritone è estremamente giovane, con le diverse regioni che hanno un'età compresa tra 50 e solo circa 6 milioni di anni. La superficie è solcata da valli e canyon particolarmente estesi, che si intrecciano in maniera disordinata, probabilmente come risultato di un processo ciclico di scioglimento e ricongelamento dell'attività dei criopulcani, oltre all'azoto solido. Alla superficie di Tritone presente tracce di metano, ghiaccio di monossido, di carbonio, ghiaccio d'acqua e ghiaccio secco. L'albedo è quindi particolarmente elevato e varia localmente fra 0,60 e 0,95. La temperatura superficiale di Tritone è certamente superiore ai 35,6 K, come rivela la presenza di azoto solido in forma beta cristallina, che subisce una transizione di fase al di sotto di tal temperatura. La pressione di vapore dell'azoto gassoso presente nell'atmosfera del satellite impone un limite massimo pari a circa 41 su 42 K. La temperatura di Tritone risulta così addirittura inferiore a quella di Plutone all'ordine dei meno 235 gradi, nonostante il satellite sia ancora geologicamente attivo. Complessione Mendele e superficie di Tritone è pari circa il 4,5 di quella terrestre. Attività geologica. Tritone risulta sorprendemente geologicamente attivo, la sua superficie è relativamente recente e povera di cratere all'epoca dei flyby da parte della Voyager 2, presentava numerosi vulcani ghiacciati. I Plimers, nell'atto di eruttare azoto liquido. Polveri o composti del metano, nell'atmosfera formando dei pennacchi alti fino ad 8 km. Tritone è con la terra. Io ed Encelado, uno dei pochi corpi del sistema solare dove sia stata osservata eruzione attiva di qualche tipo, anche se un'attività vulcanica potrebbe essere presente sul Venere, Marte, Europa, Titano ed Ione. Si ritiene che l'attività geologica di Tritone sia innescata da riscaldamento stagionale ricevuto dal Sole, a differenza ad esempio di quel ladio che ha origine delle forze di maria provocate dall'interazione gravitazionale con Giove. Tutti i geyser osservati infatti erano situati tra i 50 e i 57 di latitudine. La parte superficiale dei Tritone vicino al punto subdolare, cioè indica che il riscaldamento solare, anche se molto debole, vista la grande distanza di Tritone e del Sole, gioca un ruolo fondamentale per l'eruzione dei creovolcani. Si pensa che la superficie di Tritone sia costituita da uno strato trasparente di azoto congelato, sovrastante un substrato scuro, che crea una sorta di effetto serra solido. La radiazione solare passa attraverso il ghiaccio superficiale lentamente riscaldando e vaporizzando l'azoto del sottosuolo, fino a quando la pressione del gas aumenta al punto da farlo eruttare in superficie attraversando la crosta. Ogni eruzione di un geyser sul Tritone puro può durare fino a un anno. Il materiale eruttato può essere trascinato creando strisce lunghe fino a 150 km, come quelle osservate dalla Voyager sull'emisfero meridionale di Tritone. Sono visibili molte di queste strisce di materiale scuro tra il 1977 e il sorvolo ravvicinato della Voyager del 1989. Tritone cambiò il suo colore da rossastro simile a quello di Plutone. Ha una tonalità molto più chiara del colore al punto rossastro. Poi, i crateri da impatto. A causa dell'attività geologica in corso che rimodia di continuo alla superficie i crateri da impatto, Tritone sono relativamente rari in cimento dei crateri di Tritone. Ripresi dalla Voyager 2, solo 179 crateri. L'atmosfera di Tritone possiede un tenue atmosfera ricca di azoto, in cui sono presenti anche piccole quantità di metano o monossido di carbonio, in prossimità della superficie come l'atmosfera di Plutone. Si pensa che l'atmosfera di Tritone sia risultato dell'evaporazione dell'azoto della superficie della temperatura sui meno 237,6 gradi, più freddo comunque rispetto alla temperatura media di Plutone che è di 229 gradi sotto lo zero. La sua pressione atmosferica superficiale risulta di 15 su la decima, la sesta atmosfera, cioè circa 1 su 70 mila di quella terrestre. Va bene, abbiamo parlato di Tritone, adesso parliamo delle altre lune. Ecco qui raga, il prossimo satellite di Nettuno. La Rissa è il quinto satellite naturale di Nettuno. In ordine crescente di distanza del pianeta fu scoperto dal gruppo di Harold Reisteiman che si basò sull'osservazione di occultazione stellari. Nel 1981 ricevette la designazione provvisorio DS 1981 numero 1. Nessun altro astronomo riuscì più a osservare il satellite fino al sorvolo da parte della sonda Voyager 2. Nel 1989 la nuova designazione provvisoria fu DS 1989 numero 2. Il satellite è intitolato la figura di Larissa ricordata a volte come madre di Pela Gaso, nato dall'unione con Giove e con Poseidone, secondo la mitologia greca. Larissa presenta un aspetto fortemente irregolare e non mostra traccia di attività geologica. La sua superficie è fortemente craterizzata. L'orbita di Larissa, trovandosi al di sotto dell'orbita, poi se non si crona è fortemente instabile le forze mareali indotte dalle vicinanze gigante e gassoso. Ne stanno provocando una graduale decadimento che porterà alla disintegrazione del satellite e alla formazione di un nuovo anello planetario o all'impatto di Larissa con Nettuno. Questo ovviamente in futuro succederà. passiamo a un altro satellite di Nettuno, Galatea. È il quarto satellite naturale di Nettuno, in ordine crescente di distanza dal pianeta, fu scoperto nel 1984 dall'astronomo statunitense Steppensteinot, grazie alle immagini inviate alla Terra dalla sonda Voyager 2, che sorvolò il pianeta ed il suo sistema di satelliti. Prima di dirigersi verso lo spazio interstellare, la sua scoperta fu resa nota dall'Unione Astronomica Internazionale, il 2 agosto 1989. IAU 4824. Inizialmente è denominato S1984 numero 4. Il satellite è intitolato alla figura di Galatea un anereide, secondo la mitologia greca. Galatea presenta un aspetto fortemente irregolare e non mostra traccia di attività geologica. L'orbita di Galatea, trovandosi a di sotto dell'orbita poseidosincrona, è fortemente instabile. Le forze mareali indotte dalla vicinanza al gigante gassoso ne stanno provocando un gradual decadimento, che porterà alla disintegrazione del satellite e alla formazione di un nuovo anello planetario o all'impatto di Galatea con Nettuno. Ok, passiamo al prossimo satellite. Despina è il satellite naturale di Nettuno. In ordine crescente di distanza dal pianeta fu scoperto nel 1989 dall'astronomo statunitense Stefan Snayot, grazie alle immagini inviate a terra dalla sonda Voyager 2, che sorvolò il pianeta e il suo sistema di satellite. Prima di dirigersi verso lo spazio indestellare, la sua scoperta fu resa nota dall'Unione Astronomica Internazionale il 2 agosto 1989. Inizialmente denominato esse 1989 numero 3, il satellite è intitolato alla ninfa Despina, figlia di Poseidone e di Demetra, secondo la mitologia greca. Despina presenta un aspetto fortemente irregolare e non mostra traccia di attività geologica. L'orbita di Despina, trovandosi al di sotto dell'orbita Poseidon-Singrona e fortemente instabile, le forze mareali indotte alla vicinanza al gigante gassoso ne stanno provocando un graduale decadimento, che porterà alla disintegrazione del satellite e alla formazione di un nuovo anello planetario o all'impatto di Despina con Nettuno. Passiamo al prossimo, satellite. TALASSA 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 FIGlia di Amerea ed etere. Secondo la mitologia greca, il termine TALASSA in lingua greca significa mare. Si tratta di un piccolo satellite regolare dal diametro di circa 80 km, privo di attività geologica. I parametri orbitali dell'orbita di Talassar assente l'atmosfera di Nettuno è fortemente instabile, le forze mareali indotte dalla vicinanza al gigante gassoso ne stanno provocando un graduale decadimento che porterà alla disintegrazione del satellite e alla formazione di un nuovo anello planetario o all'impatto di Talassa con Nettuno. Passiamo al prossimo satellite raga. Ecco il prossimo satellite si chiama Nayade o Nayide conosciuto anche come Nettuno terzo e il satellite naturale più interno di Nettuno. Nayide è stato scoperto intorno alla metà del settembre 1989 dalle immagini riprese dalla sonda statuitense Voyager 2. L'ultima luna ad essere stata scoperta durante il passaggio ravvicinato della sonda inizialmente fu designata come S1989 numero 6. Le fu poi dato il nome di Nayide Dallena Iadi della mitologia greca. La sua scoperta venne annunciata il 29 settembre 1989 nella circolare dell'Unione istituzionale nazionale. Ma il testo parlava di 25 fotogrammi presi in 11 giorni facendo risalire la scoperta qualche tempo prima. Del 18 settembre il nome venne assegnato il 16 settembre 1991. Le caratteristiche. Nayide è di forma irregolare e probabilmente non è stata modificata da nessun processo geologico interno. Dopo la sua formazione è probabile che si tratti di un di dietriti che si sono fusi da frammenti di satellite di originali di Nettuno che furono distrutti da perturbazioni provenienti da Tritone quando Tritone stesso fu catturato dalla sua orbita iniziale molto eccentrica. Nayide orbita circa 23.000 sui 500-2.000 km sopra le cime delle nube di Nettuno dunque in maniera rassente all'atmosfera di Nettuno stesso dal momento che questa altezza è al di sotto del raggio di orbita singrona. La sua orbita sta lentamente decadendo a causa dell'accelerazione secolare e il satellite imbatterà con l'atmosfera di Nettuno o si romperà un anello planetario. va bene. Veramente abbiamo finito le lune di Nettuno? No è stata scoperta una ed è la più piccola di tutte ora la andiamo a vedere. Ecco qua l'ultima è veramente luna di Nettuno. Ippocampo, ufficialmente Ippocamp Camp, è precedentemente noto con la disignazione provvisoria S2004 numero 1. È un satellite minore di Nettuno scoperto il primo luglio 2013. da Mark Herr Schollauer del Seti, istituto di Mountain View in California. Date le dimensioni ridotte il satellite non era stato osservato dalla sonda spaziale Voyager 2 durante il sorvolo ravvicinato di Nettuno del 1989. Showalter ne ha affettuato la scoperta esaminando più di 150 fotografie da archivio di Nettuno scattate dal telescopio spaziale Hubble tra il 2004 e il 2009. Ippocampo è il quattordicesimo satellite noto di Nettuno ed è il primo ad essere stato scoperto dal settembre 2003. Data della scoperta di PSMATE. Va bene. Abbiamo parlato di tutte e sette le lune, giusto? Che cosa altro dobbiamo parlare? Vabbè. Forse possiamo concludere anche il video qui. Ci farò anche una seconda parte. Che dite? Beh ragazzi, spero tanto che questo video ovviamente di Astronomy Universe, il trentottesimo episodio, parliamo delle sette le lune di Nettuno, vi sia piaciuto? Iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, mettete un bel like e noi ci vedremo più tardi in un prossimo video, ok? Noi ci vedremo alla prossima. Ciao!